Eccoci qua. Allora, questa sera voglio raccontarti una bella cosa che riguarda la locazione. Il bello di questo mestiere è di entrare a casa delle persone e di essere accolti come uno della famiglia. Sto uscendo da una casa dove il locatore, gentilmente, insieme a mia figlia, che è qui a fianco a me, che non posso farti vedere, ma mi piacerebbe tanto, ma ho piacere di mantenere la riservatezza totale su mia figlia, ci ha offerto un dolce. Quindi esco da questo meraviglioso immobile, da parte di una locatrice che conosco da qualche anno e che ha più di 80 anni, al quale gestisco una parte dei suoi immobili e delle sue proprietà, gentilmente mi ha offerto il dolce alle mele, che è qui, non so se si vede, quindi è qui dentro. E' accompagnato da mia figlia questa sera, sono andato dalla signora e gentilmente ci ha fatto questo meraviglioso dono. Quindi il messaggio di questa sera è che il lavoro più bello del mondo è il mio, e quindi è una bellezza unica entrare nella vita delle persone, nella casa delle persone e sentirsi da queste persone, sentirsi la gratitudine che ti sono grate per il bene che gli stai facendo, per il fatto che gli hai dato quella tranquillità mentale che ogni locatore avrebbe bisogno, per il fatto che gli hai trovato delle persone che non gli fanno storie, non le fanno tribolare, non gli fanno impazzire, non li fanno diventare matti, ma bensì hai trovato quelle persone che stanno bene a casa dei locatori e che vogliono continuare a rimanere per tantissimi, tantissimi anni. Quindi questa è la locazione profittevole, questa è la locazione che rende un locatore felice e gli dà quella tranquillità che ogni locatore, ogni proprietario di casa vorrebbe. Quindi se anche tu vuoi questa tranquillità e questa pace mentale, sappi che è possibile averla, bisogna solo fare le scelte giuste, avere la persona a fianco giusta, l'esperto giusto che ti sappia consigliare e ti sappia dare quelle dritte che faranno la totale differenza nella tua vita e faranno in modo che da qui per i prossimi 20 anni la tua locazione sia semplicemente meravigliosa. Questo è possibile, se vuoi anche tu farne parte, clicca nel link, c'è la possibilità di prenotare la consulenza con me, se trovi il posto e se supererai le domande che ci sono e se ritroveremo opportuno valutare la tua situazione come una situazione interessante per noi che si sposa con quella che è la nostra filosofia di vita e di modo di vedere il mondo. Voglio aggiungere un'altra cosa al video che avevo concluso, ma questo è un taglio che inserirò nel video che ho fatto appena finito. Mia figlia mi chiede perché non ho puntato la telecamera su di lei, perché non è assolutamente corretto, quindi mia figlia mi ha chiesto perché non l'ho fatto, perché i bambini vanno salvaguardati assolutamente e Mina, Mina sei sulla strada e quindi perché mi sono portato mia figlia, ho portato mia figlia con me perché me lo posso permettere, perché le persone che conosco le conosco da tanto tempo, quindi vengo accolto a casa di queste persone, di questi proprietari come uno della famiglia e questo è il bello, questo è quello che mi contraddistingue da tutto il resto della massa, quindi se tu vuoi prendere dalla massa quello che c'è, quello che ti capita, ben venga, fatti avanti, ci sono centinaia, centinaia di persone che ti tratteranno come un numero, se invece vuoi essere considerato come una persona speciale, bene, il nostro rapporto potrebbe crescere e diventare uno di questi, un rapporto speciale, quindi ho fatto questa giunta, adesso lo aggiungerò all'altro video, non so in quale modo, ma in qualche modo il mio team lo taglierà e lo incollerà, quindi ti aspetto per questo video veloce, rapido e da Mickey Martinazzi, da questa serata è tutto, a presto! Grazie! 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 Grazie!